Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Il Primo Ministro d'Albania e di Rama torna qui a Roma dopo poche settimane dalla sua ultima visita, non a caso. Sono molto molto contenta di essere qui con lui oggi per annunciare un importantissimo protocollo di intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. È un accordo che arricchisce un'amicizia storica, come voi sapete, una cooperazione profonda tra le nostre due nazioni. Il nostro è un parternariato strategico che si sviluppa attraverso rapporti commerciali di assoluta eccellenza. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania e il nostro interscambio vale circa il 20% del prodotto interno lordo albanese, ma anche attraverso scambi tra le nostre comunità presenti in Italia e in Albania, intensi rapporti culturali e sociali, una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta a tutte le forme di legalità e che vede una importante presenza in Albania di forze dell'ordine di magistrati italiani. L'accordo che noi si chiamiamo oggi arricchisce questa cooperazione di un ulteriore tassello. Quando noi abbiamo cominciato a discutere di questo qualche mese fa con il primo ministro Rama, siamo partiti da alcune considerazioni di fondo che condividiamo, che voi conoscete bene, e cioè che l'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che gli Stati membri dell'Unione Europea non possono affrontare da soli. è che da questo punto di vista la collaborazione tra Stati UE e Stati per ora, extra UE, può essere decisiva. Per questo ci siamo detti che una cosa bella da fare sarebbe stato rafforzare e rilanciare questa cooperazione. Allora noi abbiamo lavorato insieme ad un accordo che rafforza proprio questo genere di cooperazione e che si pone sostanzialmente tre obiettivi, e cioè contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale. In che cosa consiste l'accordo? L'accordo consiste nel fatto che l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese, nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese sotto la propria giurisdizione due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone, che rimarranno in questi centri il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente ai fini del rimpatrio. Chiaramente si tratta di massimo 3.000 persone contestuali, ma è chiaro che utilizzando le procedure accelerate che consentono, grazie a questo Governo, di processare le richieste in 28 giorni, io intendo che con questo progetto a regime questi numeri possano essere considerati come mensili e che quindi il flusso complessivo annuale possa arrivare fino a 36.000 persone che si alternano. Voglio anche dire che questo accordo e questa possibilità non riguarda però i minori, non riguarda le donne in gravidanza, non riguarda gli altri soggetti vulnerabili. La giurisdizione all'interno di questi centri sarà italiana. Nel porto di Shenzhen l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e di identificazione, qui realizzerà un centro di prima accoglienza dove operare una prima attività di screening, mentre in un'altra area più interna si realizzerà una seconda struttura modello CPR per le procedure che invece sono successive. L'Albania collabora con le sue forze di polizia sul fronte della sicurezza, sul fronte della solveglianza esterna delle strutture. Chiaramente l'accordo che noi firmiamo oggi, questo protocollo, disegna la cornice politica e la cornice giuridica di questa nostra nuova collaborazione. Poi all'accordo dovranno seguire tutti i provvedimenti normativi conseguenti, le attività necessarie a predisporre in territorio albanese le strutture e sono centri che contiamo di rendere operativi per la prossima primavera, quindi per la primavera del 2024. Io voglio dire che sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, voglio ancora ringraziare il primo ministro Edirama, il mio amico Edirama, voglio ringraziare i ministri che sono qui presenti, gli ambasciatori, gli uffici che hanno lavorato a questo progetto, voglio ringraziare anche la Farnesina, il ministro Tajani che non ha potuto essere presente oggi per il lavoro che hanno fatto, considero questo un accordo di respiro europeo e voglio dire che questo accordo dimostra che si può collaborare sul fronte della gestione dei flussi migratori, si può collaborare a 360 gradi e si può e si deve collaborare particolarmente con quelle nazioni che europee sono e in questo voglio dire che non solo l'Albania si conferma una nazione amica dell'Italia ma anche una nazione amica dell'Unione Europea perché nonostante non sia ancora formalmente parte dell'Unione Europea, come sapete l'Albania è un paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea, si comporta esattamente come se fosse già un paese membro di fatto dell'Unione e questa è una delle ragioni per le quali ma non è questa la ragione, insomma è una delle ragioni per le quali sono fiera del fatto che l'Italia da sempre storicamente sia stato uno dei più grandi sostenitori dell'ingresso dell'Albania e dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, voi sapete che a me non piace definirlo allargamento, a me piace definirlo riunificazione, non penso che l'Unione Europea sia un club, non penso che siamo noi a decidere chi sia europeo e chi non lo sia, credo che i Balcani occidentali siano a tutti gli effetti paesi europei, credo che l'Albania sia a tutti gli effetti un paese europeo e questa è la ragione per la quale dall'inizio, da sempre noi abbiamo sostenuto con forza questo processo di riunificazione, anche per questo penso che l'accordo di oggi sia molto importante ma anche perché è una soluzione innovativa che dimostra che dalla cooperazione e dall'amicizia possono nascere anche idee nuove e confido che possa diventare domani perché so che lo faremo bene, che lo faremo nel migliore dei modi e confido che possa diventare domani anche un esempio e un modello da seguire per altri accordi collaborazioni di questo tipo. Quindi grazie Edi, grazie davvero a tutti, grazie all'Albania per questa altro importante pagina di una cooperazione strategica, di un'amicizia storica, solida, della quale andiamo molto fieri. Grazie Presidente, cara Giorgia. Intanto preferisco far riposare il traduttore perché mi piace essere sicuro di ogni parola che dico e siccome questo annuncio si fa davanti al pubblico italiano allora meglio farlo in italiano. Sì, l'Albania non è un stato UE ma è un stato E, cioè noi siamo in Europa e noi siamo uno stato europeo, ci manca la U davanti ma comunque intanto questo non ci impedisce di essere e di vedere il mondo come europei. E poi c'è un'altra cosa che devo sottolineare fin dall'inizio. Noi non avremmo fatto questo accordo con nessun altro stato UE. Con tutto il rispetto c'è una differenza importante di natura storica, di natura culturale ma anche di natura puramente emozionale che lega l'Albania con l'Italia e gli albanesi con l'Italia. Io non credo che noi saremo in grado almeno per gli anni che possiamo prevedere per noi stessi qui di avere davanti a pagare il debito verso l'Italia, verso il popolo italiano, verso le istituzioni italiane per quello che hanno fatto per noi dal primo giorno che noi siamo arrivati nelle sponde, in questa sponda del mare per trovare rifugio, per scappare dall'inferno e poter immaginare una vita migliore. Cioè questo debito non si paga. ma comunque, come ho detto anche in altre occasioni, se l'Italia chiama l'Albania c'è. Non sta a noi sicuramente giudicare il merito politico di qualsiasi tipo di decisione presa qui in questo luogo o in altre istituzioni ma a noi sta di rispondere presenti quando possiamo dare una mano. Ed è chiaro che dare una mano in questo caso vuol dire aiutare a gestire con un pizzico di respiro in più una situazione che lo vedono tutti. E' una situazione difficile per l'Italia. La verità è che la geografia è diventata la maledizione dell'Italia perché quando si entra in Italia si entra in Europa, si entra nell'Unione Europea. Ma quando si tratta poi di gestire questa entrata come Unione Europea, sappiamo bene come vanno le cose. Su questo sicuramente noi non abbiamo la forza e la capacità di essere, diciamo, la soluzione. Ma credo che abbiamo il dovere verso l'Italia e abbiamo anche una certa capacità per dare una mano. Allora questo protocollo d'intesa è il frutto di una lunga conversazione per fare le cose bene. Non è una scappatoia, non è neanche qualcosa che noi facciamo perché dobbiamo farlo in tutti i costi, ma facciamo perché crediamo in questo. L'Albania ha una storia di ospitalità. L'Albania è l'unico paese europeo dove ci sono stati più ebrei dopo la seconda guerra mondiale che prima della seconda guerra mondiale. L'Albania è un paese dove migliaia di italiani dopo la capitolazione della seconda guerra mondiale sono stati protetti dagli albanesi e non sono stati lasciati alla preda dei nazisti. E poi l'Albania è un paese che ha colto più di mezzo milione di rifugiati di guerra che scappavano per sopravvivere alla pulizia etnica di Slobodan Milosevic dal Kosovo, come dite voi, Kosova come diciamo noi. E poi l'Albania ha dato rifugio a qualche migliaia di donne e di famiglie afghane quando la nostra alleanza euro-atlantica, la NATO, ha molato l'Afghanistan molando loro praticamente. E quelli che hanno creduto al nuovo mondo che noi portavamo per loro non potevano essere lasciati nelle mani dei assassini che poi sono diventati i sovrani di Afghanistan. E' andata benissimo perché quelle famiglie oramai sono salve e questo modello prende un po' anche quell'esempio nel senso che noi abbiamo creato le condizioni per una tranquilla elaborazione dei loro dati, della loro adattazione ai meriti sui quali e poi queste famiglie sono state prese in altri paesi, negli Stati Uniti, in Canada e così via. E ultimo ma non per importanza, in Albania abbiamo dato la possibilità di sopravvivere a un macello infernale mortale a qualche migliaia di iraniani che sono ancora lì, che vivono lì. E così, come dicevo, non possiamo risolvere il problema ma possiamo dare una mano. E quando l'Italia ci chiede di dare una mano non esiste, secondo me, di dire vediamo, di girare il volto dall'altra parte, di far finta di cercare la soluzione ma non trovarla mai e così via. Quando forse diventeremo stato UE impareremo anche come fare ma per il momento siamo, diciamo, consci ma anche fieri della nostra naività, diciamo. E così sono qui con i colleghi che hanno lavorato su questo accordo che è stato un accordo nato quando Giorgia era supposta di fare vacanze ma evidentemente le notizie dei sbarchi non la lasciavano sbarcare tranquillamente in spiaggia e così io sbarcavo da lei per capire come potevamo aiutare. Ecco. Tutto qui e adesso se ci sono domande va bene. Se non ci sono domande firmiamo e noi andiamo via dopo aver fatto il nostro dovere. A inizio la cerimonia di firma del protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania. Protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Protocollo miti di Scevieris e Repubblica d'Italiana e il Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni per la Repubblica d'Albania il primo ministro Edi Rama. N'è n'è n'shkruajnë. Për Repubblica d'Italiana, Kryetarea e Kshilit e Ministrave Giorgia Meloni, Për Repubblica d'Albania il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, buona serata.